La sanità è uno degli ambiti di competenza della regione, dell'ente regione, forse è la materia di maggiore rilevanza che una amministrazione regionale deve gestire. Abbiamo assistito a varie problematiche, a varie polemiche circa chiusura di strutture ospedaliere, di reparti, delle strutture di pronto soccorso, la problematica delle liste di attesa. Ne parliamo con il dottor Patrizio Mazza, candidato al Consiglio regionale pugliese con la lista La Puglia, domani fitto presidente. La sanità è il tema, l'essenza della sua vita, essendo primario della struttura complessa di ematologia e trapianti del Moscati di Taranto. Come riprogrammare questa sanità? Ho accennato prima al fatto che c'è una sperequazione nel territorio sulla distribuzione di offerta sanitaria. Lei ha detto bene, la sanità è ciò che la gente percepisce di più. La salute, il bisogno di salute è un bene supremo, che va al di sopra dell'economia, perché la gente può essere povera o ricca, quando si tratta che sta poco bene diventano tutti, diciamo, allo stesso livello. Il desiderio di avere una risposta rapida, questo è il concetto. Bene, lei ha messo il dito su quelli che sono i punti deboli, i pronto soccorso intasati, i reparti anch'essi intasati, le liste d'attesa eccetera. Per arrivare a un discorso più fluido e quindi avere eliminato almeno buona parte di queste problematiche, occorre mettere in sintonia i vari settori della sanità. Esiste l'ospedale che viene visto dai pazienti come il toccasana, come il punto di arrivo per la propria salute. In realtà non dovrebbe essere così, ci dovrebbe essere un primo approccio che va nel territorio, con il proprio medico di famiglia, un secondo approccio, strutture sempre territoriali, che io definisco territoriali, di primo livello o secondo livello, che in qualche modo affrontino la selezione, facciano una selezione. Questa è una cosa seria, questa è una cosa poco seria e quindi cerchiamo di affrontare e di incanalare bene le varie problematiche. Poi c'è il livello superiore dell'ospedale dove si fanno terapie intensive, dove ci sono le cose di urgenza, dove ci sono le situazioni anche programmabili, ma che necessitano di interventi forti, di interventi molto complessi. Bene, in questa situazione qua va ricreato il rapporto, il primo livello è quello di ricreare il rapporto fra l'utenza e il medico di famiglia e fra il medico di famiglia e il livello superiore assistenziale. Va creato un rapporto diretto in maniera che si evitino quei giri inutili di pazienti. Noi vediamo troppi pazienti che non hanno bisogno di venire in ospedale, troppi. E questo la dice lunga, poi nella questione delle liste d'attesa è in quello che l'ospedale viene di intasamento in ospedale. Bisogna evitare questo, bisogna cercare di come canalizzare questa parte di utenza che troverebbe una risposta subito e pronta. Ovviamente bisogna ripristinare anche il rapporto fra medico di famiglia e paziente. Deve essere un rapporto vivo, diretto, non dico quotidiano, però un rapporto che non è fatto solo di ricetta o non ricetta. Deve essere in qualche modo interfacciato questo rapporto con lo specialista se necessario, con un rapporto anche diretto fra medico di famiglia e specialista. Senza bisogno sempre di ricorrere lo specialista, ma con il medico che fa un po' da tramite per certe questioni che non necessitano proprio della struttura specialistica. Tutto questo va regolamentato, va ripristinato, va fatto una legge secondo me ad hoc proprio per questo. Creare un primo livello assistenziale di piastra ospedaliera assistenziale dove la partecipazione all'assistenza sia anche del medico di famiglia. Il paziente non deve sentirsi abbandonato quando tornerà a casa, non deve aver paura di tornare a casa. Il paziente deve essere in qualche modo assicurato che c'è qualcuno che penserà a lui e questo è fatto di rete di medici di famiglia e quindi di medicina del territorio. Ci sono i distretti, ci sono i medici di famiglia, c'è un primo livello assistenziale degli ospedali e quindi il ripristino di quegli ospedali con una missione assistenziale, magari senza andare alti di livello, senza creare situazioni intensive, ma una missione assistenziale che ce l'abbiano magari specificamente per certe situazioni, per certe altre, in maniera da ridare un ruolo a tutto l'apparato sanitario, all'apparato assistenziale sanitario.